La settimana santa è iniziata, ma è diversa dal solito. Infatti le chiese rimangono aperte, ma le sante messe vengono celebrate a porte chiuse. Possono essere seguite soltanto in televisione o sul web. È una delle decisioni adottate per evitare assembramenti e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Si modificano così, in un modo senza precedenti, tutte le celebrazioni. In ogni caso anche questi momenti liturgici, tra i più importanti dell'anno, possono essere vissuti nella maniera più intensa e partecipata. Cambiano le forme, ma non la sostanza. Oggi però una tirata d'orecchi è arrivata dal vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Calipergola, Armando Trasarti, a chi non si sta tenendo alle indicazioni date anche da Sua Eccellenza in vista dei decreti nazionali, regionali e della conferenza episcopale italiana. In questi giorni, infatti, sono arrivate alla curia diverse segnalazioni, limitate ad una parrocchia in particolare, che starebbe proseguendo i riti religiosi insieme ai fedeli. La diocesi invita quindi a verificare le norme già fatte per venire a tutti i sacerdoti e alle parrocchie. Eventuali iniziative che non rispettino tali indicazioni precise in una nota sono da ritenersi private e incorreranno nelle sanzioni che lo Stato ha stabilito per i cittadini che non rispettano la legge. Le celebrazioni di Papa Francesco e del Vescovo Trasarti in programma da giovedì a domenica verranno trasmesse sul canale 17 di Fano TV.